Siamo Tatiana e Isabelta. Siamo insegnanti d'italiano alla scuola Europass. Oggi impareremo i pronomi diretti che sembrano più difficili, ma in realtà impareremo in modo divertente e facile. I pronomi diretti sostituiscono un nome, di persona o di cosa, e servono per non fare ripetizioni. I pronomi rispondono alla domanda chi, cosa. I pronomi diretti al presente vanno sempre prima del verbo. Italiana, due al minuto. Sì dai, lo guardo. Cosa prendiamo? Un caffè? No, di solito lo prendo dopo pranzo. Giusto. Un bicchiere di vino? Buono, ma lo prendo sempre. Vorrei cambiare. C'è lo spritz! Lo adoro! Lo prendo. Ma tu cosa prendi? Lo bevo anch'io. E cosa mangiamo? Una pizza? La pizza margherita. La voglio. Oh, c'è la schiacciata! Buonissima, schiacciata fiorentina. La prendo. La basta? Sì, la voglio. Ma non possiamo mangiare tutto. Lo so, hai ragione. Facciamo così. Prendiamo la schiacciata e la pizza margherita. E le dividiamo. Perfetto, le ordino. Scusa, ma voi non sono Lorenzo e Matteo? Sì, sono loro. Li chiamiamo o li invitiamo al tavolo? Perfetto, ottima idea. Salute! 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 Grazie a tutti.